Buttalo! Guarda, buttalo! Guarda me, assolutamente, non ti voglio fare male, però lo devi buttare giù. Dai, buttalo giù! Dai! Fermo, fermo, fermo! Guarda! Va bene, buttalo giù! Buttalo! Buttalo! Buttalo, non c'è nessun problema, buttalo e la facciamo finita! Guardami, guardami, guardami! Come ti chiami? Cristiano, 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 guardami qua! Cristiano, 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 lascia stare! Cristiano, Cristiano, butta il coltello! Va tutto bene, basta che lasci il coltello! Non fatto! Devi solo lasciarlo! Guardaci, guardaci! Guarda, guarda! Cristiano! State un po' più distanti, andiamogli un po' più di spazio! Ci hanno un armato di coltello che appoce lo scansio. Non fa l'amore, Cristiano! Non fa l'amore, Cristiano! Cristiano, ma si vuole altro! Ma vedi due uomini! Stai stonando, ma che più quasi c'è l'amore! La scansione che adesso soccano! Ma ascoltami, ma che fai coltello? Stai stringendo, cazzo! Stai stringendo, cazzo! Cristiano, lascia stare! Posa il coltello! Cristiano! Cristiano, lascia stare, lascia il coltello! Lascia il coltello, Cristiano! È sbagliata, Cristiano! Guarda, è sbagliata! Lascia stare anche tu! Vedi giù il coltello e parliamo! Poi vado a mano! No, no! Cristiano! Mi ascolta! Ascolta! Filo, parlo io o parli tu? Parli tu! Parli tu! Cristiano! Lascia lo stato! Da! Finisci il coltello! Due, tre, due! Lascia il coltello! Cristiano, finisci il coltello! Lascia! Lascia! La montoccia! La montoccia! La montoccia! Ero che è un coltello! Ero che è un coltello! Sbagliata! Adesso lo puro sarà il coltello! Grazie a tutti. Cristiano, Cristiano, tieni lontano il coltello, lascia stare, va tutto bene, lascia stare. Cristiano, Cristiano, guardami Cristiano, guarda me, guarda me Cristiano. Cristiano, 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 tiri lontano il coltello, Cristiano. Cristiano, Cristiano, a posto, non ti facciamo niente, devi solo posare il coltello. Cristiano, tu ti chiami Cristiano, ce l'hai detto adesso? Dov'è? Non ce ne accertiamo, lo chiediamo, chiedi a chi possiamo chiederlo. Posa, posalo, Cristiano. Cristiano, hai detto che è una stanza qua, hai detto? Hai detto che qui hai una stanza? Giusto? La cerchiamo, la cerchiamo, chiediamo dov'è. Ok, posa solo il coltello. Ci informiamo per te, però devi posare il coltello adesso. Cristiano, Cristiano, ascoltami. Cristiano. Guardami, guardami, guardami Cristiano. Cristiano, guarda, la stanza, tu ci hai detto della stanza? Tu posi il coltello e vieni con me a cercare per questa stanza. Chiediamo e risolviamo il problema. Va bene? Però il coltello lo posi? Posa il coltello. Cristiano, 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 non ti possiamo aiutare se hai il coltello in mano. Posalo, buttalo via. Lascialo stare. Lascia stare il coltello. Ok. Tutti, andiamo tutti dietro. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo metto a terra? Vuoi darlo a me? Mi metto a terra? Guarda, 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 non ho niente, guarda, guarda, così. Guarda, io ci voglio aiutare. Cristiano, guarda, Cristiano, ti fidi di me? Cristiano, guarda, Cristiano, ti fidi di me, vengo io. Cristiano, lui, 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 lui si mette lì nell'angolo, lo lascia, lui si mette lì nell'angolo, dai. Guarda, 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 guarda. Cristiano, Cristiano, va tutto bene Cristiano Tu hai bambini Cristiano? Tu hai bambini? Tu hai bambini? Tu hai bambini per me questa è brutta Tua mamma? No Adesso chiediamo a chi te l'ha mandato Per chi te l'ha mandato? Facciamo così? Dai, me lo vuoi provare a dare? Salute Sì, sì Me lo vuoi provare a dare? Salute Salute Cristiano, Cristiano, non ti preoccupare, Cristiano Cristiano, ascoltami, Cristiano Ci spostiamo un po' Fermi, 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 fermi Fermi A posto, a posto Quando me lo faccio Mi la doveva stare, vada, fermi, 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 fermi. Chi mi hai? Sì, sì, è stata l'accento verso questa terra Atterra Certificio Mamma Tocca, mamma C'è troppi so, troppi so, troppi so Troppi so Riccati Ragazzi, allora Fattelo respirare Toglio l'altra mano, la sto ruotando, la sto ruotando, la sto ruotando, lasciatelo giù, lasciatelo giù, ok, vai, 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 ok, controllatelo prima, Lo ciro l'altra mano, vai, 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 voi, vai, 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 vai Fiè, va Von работы, ele non coi il ministro, no, ma il ministro to philosophy I clearly donato il ministro Con Expressive coaching commission boss Sit дав art Allargiamoci un po'. Dottore. 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 Dottore.